Il futurismo è stato un movimento attivissimo, c'era questo vitalismo, si chiamava vitalismo proprio, questa voglia di rompere tutte le barriere. Può essere l'arte veicolo di un messaggio anche politico? L'arte è sempre stato un veicolo di messaggio politico, se pensiamo al Rinascimento, ai Medici eccetera, l'arte era anche un strumento di potere. Perché si contendevano gli artisti importanti, i grandi? Perché anche durante il conflitto mondiale, il primo e il secondo, le opere d'arte hanno sempre costituito un miraggio, un bottino da accaparrarsi, perché l'arte è anche potere, è un veicolo culturale importantissimo. Ma cosa succede? Che bisogna essere preparati per poter captare questo potere dell'arte. Si ha l'impressione che non ci sia questa presa di coscienza del valore dell'arte, soprattutto per la nostra realtà italiana, che noi abbiamo un potere immenso in mano e non lo sappiamo come gestire. Questa mostra abbraccia tutta questa evoluzione complessa, articolata, tante volte anche sovrapposta, dal 1910 al 1920. Secondo lei che cosa attira un giovane a venire a vedere una mostra di questo tipo? La curiosità nei confronti di un passato glorioso che non gli viene offerto dalla scuola, ma probabilmente neanche dalla famiglia.